Sta facendo male al paese e sta creando false speranze alle persone che partono e che muoiono in mare. Perché i dati di fatto ci dicono che da quando è iniziata Mare Nostrum, dopo Triton, che è la stessa identica cosa al taxi del mare per portare i clandestini in Italia, scusate, i numeri, scusate, vi ho ascoltato con estrema calma, avete sempre ragione voi. Sono aumentati i morti in mare con l'inizio di Mare Nostrum, prima di Mare Nostrum meno morti in mare, perché? Perché se faccio partire più persone, più persone muoiono. O ci rendiamo conto di questo, che sono i numeri che ce lo dicono, oppure parliamo di Erafetta. Ultima cosa, mi interessava il ragionamento di Fini, è vero il programma, ma il programma di centrodestra e per una coalizione alternativa Renzi, non può essere quella sull'immigrazione, come sta facendo Alfano, che si chiama nuovo centrodestra, ma vota con la sinistra, che vota Mare Nostrum, un partito che si definisce di centrodestra, che vota 5 svuotacarceri, un partito che si definisce di centrodestra, che aumenta le tasse sulla casa. Allora, voglio un commento finale. È ovvio, noi non ci siamo a questo gioco, siamo alternativi.